L'altruismo e il senso civico sono nel suo DNA. Ancora un salvataggio per l'eroe del sisma, Dario Pallotta, 38 anni, dipendente di banca e giocatore dell'Avezzano Rugby, che nel pomeriggio di lunedì 29 luglio non ci ha pensato due volte e si è tuffato in acqua per tirar fuori dal mare agitato di Termoli, un villeggiante di mezza età trascinato a largo dalle correnti. Stavo pranzando all'Idola Perla, spiegato quando ho sentito dei fischi, mi sono avvicinato alla riva e ho visto un uomo in difficoltà oltre gli scogli, mi sono tuffato insieme a un'altra persona, l'abbiamo raggiunto e portato a riva, sostenuti da vicino ad alcune bagnine dello stabilimento arrivate con il pattino. Durante il sisma in Abruzzo il 6 aprile 2009, Pallotta aveva salvato due persone dalle macerie e per quel salvataggio aveva poi ricevuto dal Presidente della Repubblica la medaglia di bronzo al merito civile. Erano le 14, spiega, quando ho visto l'uomo in evidenti difficoltà. Non ho avuto nessuna esitazione, mi sono tuffato di corsa. Con me anche Pasquale Dell'Idomistral. Lo abbiamo raggiunto a nuoto e trascinato di forza nuotando controcorrente. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Con i due giovani sono entrate in mare per il soccorso le due bagnine dell'Idola Perla e altre due esperte di salvataggio del vicino stabilimento arrivate a bordo di un pattino. Due ragazze si sono tuffate in mare per aiutare i due soccorritori a nuoto e altre due sono rimaste a bordo dell'imbarcazione per supportare il salvataggio. Pallotta, aiutato dall'altro giovane, lo ha trascinato verso la riva. La corrente era forte, ha spiegato, ma durante il soccorso mi sentivo in grado di farcela e per questo si è deciso di trascinarlo in mare evitando di farlo salire sul pattino. Tutto fortunatamente è andato bene grazie al supporto di quanti sono intervenuti.